Sono passato. 9 in matematica, come? 8 in italiano. Io boh. Non so che steroidi ho preso. Grande. Esame quando? Quello orale. Sì. Sì. Oggi era. All'orale dicono i voti degli iscritti. A H H H. Come ti è andato? L'orale. Cosa ti hanno detto? Hanno detto i voti degli iscritti. Distinto in matematica. E buono in italiano. Io distinto in matematica lo prendevo alle elementari. Persona il cui nome non viene letto bene dal text to speech. Ma quindi com'era andato l'esame orale? Tutto a posto. Negli iscritti distinto in matematica.